Da Jordan Pilla, acclamato regista di Noi e scappa Get Out, NOPE arriva ad agosto da UC Cinemas. Che cosa hai visto? È grande. Acquista il biglietto e vinci premi esclusivi per diventare un vero filmmaker, tra cui una videocamera di SLR, un microfono professionale e una masterclass di filmmaking. Andiamo, bello! Non guardare, non guardare, non guardare! No? Acquista il biglietto da UC Cinemas.